Ben trovati gentili telespettatori di Cilento Channel, come vedete ci troviamo qui nel centro storico di Agropoli, proprio alla fine degli scaloni che vedono la porta storica di questa città presenziare questa zona. Siamo stati qui qualche settimana fa perché avevamo denunciato la presenza di un cancello su una parte pubblica del comune che sarebbe questa piazzetta e quindi dopo la nostra denuncia fortunatamente gli uffici preposti, quindi l'ufficio manutenzione, l'ufficio al patrimonio hanno eseguito un'ordinanza per demolire, quindi per portare via appunto il cancello che era abusivo e noi oggi siamo felici di raccontarvi che questo spazio finalmente può essere fruito al dominio pubblico di persone che si vogliono affacciare e godere di questa meraviglia che è lo spettacolo del panorama del porto di Agropoli e di tutto il resto della città. Naturalmente rimangono qui ancora dei tavolini, delle fioriere, insomma bisognerebbe capire chi le ha lasciate sul suolo pubblico e quindi prevedere al più presto la di quest'ultime. Che dire, un plauso va sicuramente come ho detto prima agli uffici preposti, c'è da dire che già nel 2016 era stata avviata una ordinanza di demolizione ma poi per una serie di problemi, diciamo così la documentazione è rimasta insoluta e grazie al nostro intervento finalmente si è giunti a una conclusione ideale, un po' per tutti i cittadini. Da Cilento Channel, Gianni Petrizzo, Andrei Giaccio in regia è tutto per questo servizio e ripeto un plauso al lavoro dei funzionali dell'amministrazione comunale di Agropoli.